Ciao ragazzi, questa è la chiesa di Porto Salvo, città Torre del Greco di mio caro Campanaro Mattia 2012 e ho fatto la strada, la chiesa con la cupola e il campanile che nel campanile devono essere tre campane ma in effetti da qui, da questo lato si vede solo una poi abbiamo una chiesa di Reggio Calabria, questa chiesa di Crotone, che è la chiesa di Santa Maria di Capocolonna che si trova sul mare e ho fatto anche il faro la chiesa, il campanile, che nel campanile non so dovebbero essere tre campane perché altre finestre non le vedo ma ci dovrebbero essere solo tre campane e questa è la facciata, le due croci e poi questo è un ricordo del mio nomastico e di mia zia, questa è la chiesa della Santissima Annunciata di Vichequenze, che nel campanile non ho fatto nessuna campana perché nel campanile sono due campane e qua le case e il mare comunque mai non le ho disegnate perché non potrò fare niente spero vi piaccia e comunque il mio canale sta aumentando mettete like a questi bellissimi video che stanno avvenendo su Youtube e sul mio canale io vi aspetto un bacio e buon 2021 a tutti quanti e i campanari